La prima cosa che loro devono imparare è che se vengono qua, così lo sentono anche gli organizzatori, e pagano, allora se li devono loro sudare, cioè voglio dire che sono benedetti i soldi che spendono, perché la prima cosa è che io prendo una telecamera e vi faccio rivedere a morte, perché tutti possono fare l'attore, l'attrice, il ballerino, il cantante, poi devono alzare la telecamera e si cacano addosso e non so che cosa dire, balbetano. La cosa che io voglio infondere a loro è che se tu accendi questo cazzo di telecamera e ti faccio vedere cosa sono io, quindi loro scommettono su se stessi e quindi acquisiscono una certa parolanza, quella forza che serve a loro per presentarsi quando ci saranno i castigli. E allora un consiglio in più per farvi acquisire appunto questa padronanza? Seguirmi, mi devono seguire e poi devono mettere tutto loro stessi, loro sono loro e nessuno il può aiutare, soltanto loro stessi se lo scontano. Quindi ascoltatelo, seguitelo, perché è un maestro e non un vidello, però è sicuro. E' stato un piacere la vostra parola con voi. Se posso permettere, a spesa di certo. Grazie. cameo-la. Grazie. Grazie.